Papa lo dico subito, io ricordo Giovanni Paolo II, ci disse nessuna guerra in nome di Dio e disse no agli euromissili. Abbiamo installato gli euromissili davanti agli SS20, quella scelta ha prodotto la pace. Noi non parliamo di riarmarci per offendere qualcuno, noi parliamo di armarci per avere un equilibrio militare che dissuada gli altri, i paesi non democratici in cui un dittatore può portare dei ragazzi ignari alla guerra, a fare la guerra a noi. Quindi scusi per capire, lei sta dicendo il Papa ripensaci. No, io sto dicendo che il Papa fa quello che ha fatto Giovanni Paolo II, è nella tradizione del messaggio evangelico del Papa, io non insegno al Papa come fare il Papa, ma io ho delle responsabilità che derivano dal fatto che sono stato eletto dal popolo e sto in Parlamento e il Presidente del Consiglio ha la responsabilità del Presidente del Consiglio. Devo correre pubblicità, sonorità.